Sì, ma tu hai messo sì a tutte le caselle del questionario, vero? Sì, sì. Amore, sarò mamma, eh? Sarò mamma e saremo una famiglia! Capisco il suo entusiasmo, ma vorrei ricordarvi che questa non è ancora un'adozione definitiva. C'erano soltanto detto che è del suo. Non potrà mai essere uno di noi! È diverso! Perché tu lo fai sentire diverso? Non potrà mai essere uno di noi!